Musica E agli arresti domiciliari un cittadino romeno che dopo aver clonato diverse testere carburanti ha rubato per mesi migliaia di litri di gasolio da svariati impianti del capoluogo abruzzese. Denunciati anche un complice e due ricettatori, uno dei quali dipendente del Circo Orfei, presente all'Aquila nel periodo dei fatti commessi. Aveva creato un vero e proprio giro d'affari il romeno, arrestato ieri dalla polizia, nell'ambito di un'operazione le cui indagini sono durate da fabbraio ed aprile di quest'anno, condotte dalla squadra mobile e coordinate dal sostituto procuratore della procura, la dottoressa Roberta Davolio. Il 2 marzo 2016 il gestore della Total Erg chiamò la polizia, in quanto aveva rinvenuto sulla letta paraluce della colonnina di pagamento per l'erogazione automatica del carburante un pezzetto di nastro biadesivo, riferendo di aver notato da qualche tempo che specialmente in ore notturne venivano eseguiti dei rifornimenti abbastanza cospicui di gasolio, ma di non aver ricevuto fino a quel giorno la mentale da parte dei clienti. Tale circostanza lasciava presupporre che i gnoti, in orario di chiusura del distributore, potessero aver installato sulla colonnina del pagamento un dispositivo elettronico, cosiddetto skimmer, atto a registrare i codici delle fuel cards utilizzate dagli utenti. Il fatto fa partire le indagini della mobile, che tengono d'occhio anche altri distributori, dove accadeva la stessa cosa. La mobile, il 12 marzo, nota poi l'uomo con un furgone bianco in un distributore. Fermato, la polizia è ritrovato all'interno del furgone in uso all'uomo e all'interno della sua abitazione una rilevante quantità di materiale informatico, oggetti, documenti cartacei e testere con banda magnetica. Tra la documentazione vi era anche un'agenda contenente la contabilità, circa litri di carburante illecitamente sottratto e l'importo in denaro. È stata sequestrata anche un'apparecchiatura nel corso della stessa operazione, la cosiddetta skimmer, applicata da una piastra in metallo di colore grigio acciaio, recante l'effigie di una tessera con banda magnetica e una fessura. La parte di questo dispositivo è identica, per un soggetto figurato in materiali di fabbricazione, al dispositivo presente nelle colonnine di pagamento per i rifornimenti installati presso i distributori Total Erg, identica anche la numerazione presente su entrambi. Poiché la fuel card con quel codice PIN era già stata sottoposta a sequestro penale, è da ritenere che l'indegato per operare il rifornimento del 3 aprile del 2016 abbia utilizzato altra tessera falsa contenente il medesimo codice. L'analisi poi delle immagini video permetteva anche di osservare alcuni componenti del camion sul quale vi era il contenitore dove il gasolio era stato versato. Le ricerche di quel veicolo venivano indirizzate nei confronti del circo Orfei, situato sulla statale 17, in quanto i precedenti report del sistema GPS installato sul furgone in uso all'indagato consentivano di rilevare che il mezzo sostava più volte nei pressi della struttura circense. Infatti in quel luogo, a seguito di comparazione dei componenti osservati nel video, veniva individuato un camion facendo parte del parco veicoli del circo. Il 7 aprile viene rintracciato e identificato anche il dipendente della struttura circense nonché conducente di quel mezzo, il quale ammette di aver acquistato il gasolio dell'indagato, anche lui poi indagato a sua volta per ricettazione. Un mese di rinvio e nuova conferenza dei servizi da convocare in data da stabilire dopo le emilizioni amministrative del 5 giugno. L'annunciata pausa di riflessione sulla realizzazione della variante Sud, ovvero il maxi progetto di superstrada da 48 milioni di euro che dovrebbe, nelle intenzioni di Regione Anas, velocizzare il collegamento L'Aquila-Pescara attraversando le campagne della pianura aquilana da Bazzano a San Gregorio è arrivata come previsto a Roma in sede di conferenze dei servizi. A chiedere il rinvio Antonio Gentile, sindaco di Fossa, che ha illustrato la contrarietà della sua amministrazione e dei suoi cittadini all'attuale tracciato davanti agli interlocutori governativi, alternativi, ovvero la dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico Ornella Segnalini e il capo dipartimento Anast per l'Abruzzo Antonio Marasco. Altro argomento fatto valere per rinvio è l'assenza della valutazione di impatto ambientale da parte della Regione. Le rappresentanti del Comune dell'Aquila, ovvero le dirigenti Chiara Santoro ed Enrica De Paolis, hanno a loro volta sostenuto la richiesta del sindaco di Fossa come conseguenza dell'ordine del giorno approvato in commissione territoria del Comune dell'Aquila che impegnava il sindaco dell'Aquila a stoppare il progetto. Tutto rimandato dunque e in questo mese si potrà entrare nel merito del tracciato alternativo proposto da una decina di comitati e associazioni fatta proprio dal Comune di Fossa che avrebbe le stesse misure di quella proposta dell'ANAS, ovvero doppia corsia ciascuna di 3,7 metri ma adeguando l'attuale stradale 17 da Onna a San Gregorio e che attraversa in buona parte l'area industriale già cementificata minimizzando così i costi e il consumo di suolo. Oltre all'ampliamento della carreggiata, il progetto alternativo prevede la realizzazione di due rotonde una a Donna e l'altra a San Gregorio la realizzazione di una strada per la viabilità locale che garantisca una corretta fruizione dell'attività economica e commerciale tra le due frazioni e altre misure compensative come la bonifica dell'ex-Ravit e la costruzione di una pista ciclabile e di un tracciato pedonale che dall'Aquila a San Gregorio riqualifichi il tratturo Magno. La tosatura Maori incanta l'Abruzzo Tef Maori ogni anno a primavera si sposta dalla Nuova Zelanda per raggiungere l'Italia e tosa milioni e milioni di pecore prima tappa del suo tour europeo-italiano anversa degli abruzzi vedere all'opera Tef e i suoi colleghi neozelandesi è uno spettacolo puro in meno di due minuti riescono a tosare una pecora senza neanche legarla un rasoio affilato e un velo di lana integro e di ottima qualità 2,50 euro per ogni capo tosato richiestissimi dalle aziende zootecniche di tutto il mondo La concentrazione dice che è l'elemento principale per fare questo lavoro per tagliare e tosare la pecora sicuramente ci sarà un lavoro più che altro di schiena insomma di braccio, di forza ma dice che l'elemento principale è la testa senza la pazienza, senza la concentrazione non puoi tosare la pecora In Italia in realtà nessuno riesce ad essere veloce come loro un lavoro non di forza ma soprattutto di testa e grande concentrazione spiega Tef la lana viene stipata e compressa in grandi sacchi una volta la lana era l'oro bianco in Abruzzo appena 40 anni fa infatti valeva 3.000 lire al chilo oggi vale pochissimo, appena 30 centesimi di euro al chilo svalutata dall'avvento delle fibre sintetiche la crisi, ammette Tef, c'è anche in Nuova Zelanda dove la vita del pastore è altrettanto dura La paura, tema centrale del film di Stefano Ludovichi proposto all'Aquila Film Festival una pellicola del 2015 Il rapporto in realtà alla famiglia stessa vista e raccontata come un nucleo che è la saldo, che è la base della nostra società che è la base della nostra cultura e che però dentro il quale possono annidarsi incubi possono annidarsi situazioni tremende e quindi certo abbiamo cercato di raccontare le difficoltà che ci sono in una famiglia difficoltà umane, quindi umanità Ogni 5 dicembre gli abitanti di un piccolo villaggio montano sfilano vestiti da diavoli ma il 5 dicembre del 2010 un bimbo di 4 anni Tommaso scompare nel nulla Iniziano le ricerche e si apre un'indagine nella quale il primo sospettato diventa proprio il padre del piccolo alcolista con precedenti di violenza Sua moglie gli resta accanto 5 anni dopo però un bambino viene ritrovato nella periferia di Napoli Quel bambino è Tommi, lo dice il DNA Il padre è felicissimo di rincontrare il figlio la mamma però non riesce ad adattarsi alla nuova situazione e lei un dubbio atroce che non sia suo figlio nonostante la prova scientifica Gli abitanti del paese sembrano avere segreti e la verità del ritorno di Tommi apre scenari inquietanti un thriller in piena regola insomma Sei un ragazzino che porta con sé un mondo talmente tanto storto talmente tanto apparentemente malato dove devi instillare il dubbio nello spettatore che tutto quello che vede possa essere falso e se tu spettatore non credi a quel bambino non credi alla sua stranezza ovviamente crolla tutto il film perché comunque è un film che ti parla dell'aspetto oscuro della vita appunto come dicevamo e quindi di ogni personaggio nello specifico l'attore Teo Achille Caprio che è esordiente comunque lui aveva esperienza da doppiatore cartone animati e tanto altro però è stata una secondo me una grandissima scoperta una grandissima scoperta perché si diverte è già un grande professionista perché comunque lui lo vedi che gioca come qualunque bambino nel momento in cui diamo il motore azione inizia subito a diventare il personaggio quindi già avere un ragazzino che ha 8-9 anni ha già questa consapevolezza e maturità è qualcosa di incredibile Centinaia di giovani sugli spalti ragazze e ragazze delle scuole superiori e medie dell'Aquila si sono ritrovati come accade ormai da 21 anni per sostenere amici e compagni di banco impegnati sul campo del fattori per la partita del cuore giovani e sport sport e solidarietà con nubi vincenti che permettono all'associazione l'Aquila Solidale che organizza l'appuntamento d'inizio primavera di devolvere ogni anno una somma quest'anno oltre 5.000 euro a favore dei più bisognosi la manifestazione ha successo come sempre come tutti gli anni proprio perché è finalizzata alla socializzazione di tutti i studenti dell'Aquila sia medie e sia superiori e per conoscersi tra istituti e liceo questa somma a chi avete pensato di devolverla quest'anno? Noi gli anni precedenti abbiamo devoluto la somma alla Caritas principalmente alla Caritas ma una altra volta all'Aifo quest'anno forse come tutti gli altri anni forse alla Caritas o a qualche associazione che ha bisogno di un contributo che ha bisogno di un pubblico